La conoscenza tra Ida e Mario sembra essere arrivata ad un punto. La tronista mette in dubbio l'interesse del corteggiatore dopo che è venuta a conoscenza del flirt telefonico con Mario. La tronista mette in dubbio l'interesse del corteggiatore dopo che è venuta a conoscenza del flirt telefonico con Mario. Oltre a questa sembrano esserci altre donne con le quali Mario si è intrattenuto nei primi mesi di presenza a uomini e doni. L'attenzione si sposta quindi su Sergio ma anche qui le cose non sembrano andare a gonfie velle. Il corteggiatore sembrava essere pronto all'addio e cerca rassicurare. La tronista si presta alla cosa ma sottolinea anche come sia sempre lei a rincorrere i suoi corteggiatori. Per Ida arrivano altri tre corteggiatori e il primo confronto ha un epilogo inaspettato. Uno di questi si dice pure amico di Mario e mette in discussione il tatuaggio fatto dal campano perché a suo avviso non è la prima volta che si tatua il nome di una donna. Il tatuaggio fatto dal campano perché a suo avviso non è la prima volta che si tatua il nome di una donna.